ah la madonna non muro non c'è un game di grande cacca p***a dai pure col cuore ciao a tutti ragazzi sono Shanna Gato, benvenuto nel mio canale allora oggi faremo una nuova challenge se no Alessandra è da tanto che non la vedevate volta arrivata facciamo una challenge che oggi moriamo sicuramente facciamo una challenge che peschiamo dei biglietti ci ha bevi due biglietti uno pescavamo dei biglietti o piccante o super piccante chi è il fortunato da mangiare il piccante il piccante anche se è piccante comunque è molto tosto figurati super piccante morirò? moriremo ma con questo iniziamo devo pescare questi due biglietti ovviamente con gli occhi chiusi si si per forza iniziamo così oddio iniziamo pesca ha porca ok la challenge ci riesce qui io me ne parlo vieni qua ok iniziamo prima di tutto con le pringles queste qua sono vedete texas se non sono piccanti sicuramente e queste sono piccanti da mangiare queste che bello vabbè ne mangiamo una ovviamente ne abbiamo l'acqua perchè se no moriamo vatti ma tu perché hai prima io? ho il mio più piccante guarda le pringlese non ha l'acqua non ho le mese no di texas anche tu prima come una? è un buon odore è un buon odore non ne ho più piccanti no texas deve essere piccanti dai tu io voglio sono piccanti sono piccanti no se non sta morendo no se non è giusto la zucchero ma piccanti ma andavo peggio ok ti abbracciamo vai non so piccanti ste palatine 8 di che non lo so lo so se è stato il nome piccante lo è peschiamo mi prego no no è il secondo round dai 8 piccanti il secondo round ho letto se era questo qua si stai prendendo un cucchiaio sarebbe un calvè spi come si chiama calvè spicci maio allora comunque è piccante e questo qui è messicana no 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 è messicana dammi dammi è bucciana è davvero è un bello perché ci ho assedonato l'ho bevuto perché no ma riempio questo perché è piccante molto piccante prendiamo i cucchiai lo dico io e few moments later voilà quindi siamo 1 a 0 palacendro questo? eh? no 1 che cazzo perché? no devi aprire c'hai delle cose a tua sorella c'è la carta no apri cazzo le comprate non è un euro spin no 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 è un euro spin non è un euro spin porca amadosca porco vuole sentire? no 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 grazie quando tocco a rette vediamo guarda che te non fai tu è già aperta vai ma è un buzzetto ehi ti devo dire una cosa avvicinati al telefono più vicino dai vieni più vicino alla vadona non muudo bello anche mi piace tirando cacca pottia allora si sem línea sii messi in calo oh porco sì vabbè lascia tutto però la mia ansia con il suo un po' di meno ma lì vabbè ma perchè fa così no? è sbagliato io andando a farlo i fogliettini aspetta un attimo e noi scoriggiamo tutti ah ho capito ma non scoriggere fammelo uscire aiuto fammelo uscire tu fammelo uscire ahahah zitta lo facevo prima però è meglio tre ore dopo ahahahahah ahahah 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 ma che cazzo stai ingastrato mi fa ridere ecco tu esci però cazzo stai non vuole uscire basta stai per provare ma tu hai fatto un cucchiaio quindi ecco va ecco ecco va ecco va ecco va ecco va ecco va ecco va uccidere peccante ma posso resistere ma quando è oddio non no non mo' ci uccidiamo però noo è for스트 round vuoi piacere cosa ci abbiamo no io lo so già così no tu sei pazza i peperoncini aspetta devo vendere no 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 ce lo devo mangiare? sei pazza devo mangiare meno un pezzettino io voglio verde che schifo c'è verde giallo non c'è la sua parte giallo veramente proviamo insieme tre cin cin due una non è più grande nelsi non barare ha barato quindi il punto è mio no no non poteva mangiare forza io invece l'ho mangiato questo mettere da cazzo ti pare le butto proprio quando erano due vogliamo fare l'ultimo non c'è il video è fatto più raro ma un po' di vabbè tutto ma dopo magari facciamo fino no no facciamo con le salsi senza ma quelle dopo di queste le facciamo magari con le salsi A B con le salsi capiranno così ok dai posso fare? la vedo male la vedo male andiamo? no ragazzi sono veramente euforico io non so cosa mi capita a me allora lei deve mandarsi l'olio di bestia che è l'olio? non gliel'acciuga no no l'olio proprio eh la fine è l'olio piccante non è che dici se ha capito eh è l'olio piccante lei la dici e io peperoncini piccanti questo voglio questi sono piccantissimi madonna io vado schifo però tu mi fa schifo vado io quanti quanti sante? perché viene allora prendi l'acciuga in atto io mi sciacquillo delle cose perché sei schifo prendi l'acciuga ok vai l'acciuga l'acciuga un bellissimo guarda madonna non lo voglio perché ho fatto da anni qua ecco due non lo voglio non lo voglio guarda i tecnici è piccante ecco ci dà sì con l'acciuga sì dai 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 così piccolo va bene quasi piccantissima chiuso dai l'ultima sfida guarda i miei baci guarda i miei baci guarda i miei baci dai dai d'arrotare che ho un peperoncino questo è quello che l'ha preso vero? non lo so è tutto 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 ahhh mi sa bocca italiano italiano si pronuncia i piccani con il 6% ho fatto lo tu? no ora se cosa mettere nei cosi dei bicchieri le bibide poi eh niente l'ho sentito mi ha fatto lo spareggio che è due pari allora e ora poi capita a casa e ora so cazzi ma non so quale possiamo mettere allora sai che facciamo le stesse copre le patatele se quello piccante è più col piccante il meno piccante è quello meno piccante va va eh lo spareggio vai prendi qua ora so cazzi i nostri ma è l'ultima poi passa perché la bocca no porco tu sei piccante la nostra bocca sta andando a fuoco giusto? ma stanno andando a fuoco la mia quali problemi? vabbè queste comunque non le dobbiamo prendere vabbè queste comunque non le dobbiamo prendere vedi più la vedo male la vedo no ma mamma ma te le piccante otto non so ahhh la ragazza c'è la piccante questa con le patine queste perché sono più piccanti c'è quella ma mamma se la furreggia no poi l'ho fatta io però porco ma te danni la ragazza ma la porca mamma mi uccide vado io andando la vado a pulire vado a pulire vado a pulire ecco i pantaloni con tutta la sedia porca giuda che schifo ho indossato a queste cose che lo chiede molto piccante non sempre mi ha detto no 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 ah 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 ora però ridò più perché posso buon piango come va? c'è poco di fuoco mi non è che stiamo pitando mi bocca andata a fuoco ormai mi sento poco anzi se sono una vera youtuber metto un pizzico di questo sulla patina e se vengo queste se io faccio queste vinco io no 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 sono vinto io no e mi sono pure mangiato quindi noi due l'abbiamo mangiato queste due oddio sono pazza ok bevi l'acqua finché lo sentiamo no io vengo che vuoi? eh? l'ho vinto non lo bevo hai vinto hai perso? che cazzo è che vinde? io ho mangiato e l'ho mangiato pure no no mi dà ancora pareggio no io ho mangiato pure con la patatina e non vi canto non sei buono vabbè vinto tu hai visto devi sentire vabbè ropa stia perché avevo piccanti e io l'ho presa no basta non lascio più vabbè non so devi dire poi che ha vinto che ti provo a mangiare così piccanti e che ti fa nei commenti ok? bene solo diranno tutti a te grazie a cazzo non penso non lo so decideranno loro in base a quello che hanno visto punto e niente raga allora ne so il video deve darlo un po' troppo poco ma adesso sto a fare una challenge così però abbiamo tante cose piccanti che abbiamo preso anche perché siamo povere ma comunque raga allora porco due ci vediamo al prossimo video ciao a tutti alla prossima ciao al prossimo li facciamo con l'alcol e quindi mi raccomando quindi vedete vedete il prossimo video sarà poi non so quando vuoi e tu da lunedì perché i giorni di portare a me lunedì c'è la giornata lunedì diciamo il video e gli avanti prossimo ci saranno due video di noi con l'alcol bene non perdete velo ciao ragazzi a video al video al prossimo video raga al video al video hashtag al video non so cosa vuol dire però hashtag al video ok mi raccomando nei commenti ciao 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 ciao